Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale, oggi è il 7 di marzo, andiamo a vedere cosa è successo ieri sul nostro calendario, andiamo a vedere i nostri grafici, ricordo ancora, attenzione, non fan payroll questa settimana. Partiamo con il nostro calendario, un calendario dove ieri, come potete vedere, ci sono stati un dato positivo sul Regno Unito, l'indice del direttore degli acquisti, che è stato un 54,6, poi abbiamo avuto un indice eBay dei direttori degli acquisti in Canada, che è stato un dato negativo. La giornata di oggi, avremo alle vendite del dettaglio fra 37 minuti sull'Australia, dove è un dato positivo, poi avremo decisioni sul tasso di interesse, attenzione, sull'Australia, che dovrebbe essere di 0,25 punti, attenzione, anche questo è un dato molto importante, poi avremo la testimonianza del Presidente Powell, previsioni dell'EIA sull'energia nel breve termine, e poi una giornata abbastanza tranquilla. Grafici, Euro-Dollaro, come potete vedere, il ciclo che ha chiuso il G3, abbiamo detto che non sappiamo se è partente da un nuovo ciclo G1 o è la chiusura del G4, comunque abbiamo questo minimo che è stato su questo supporto dinamico, che ci conferma, vedete che adesso è partito questo nuovo ciclo, attenzione, però la media 50 che è piatta, attenzione, vedremo se andrà, ritornerà a 1,770, comunque per il momento è ancora molto incerto, perché per il momento per me il trend dovrebbe chiudere il ciclo, vedete che qui le medie sono ancora piatte, la sterlina GBPUSD, molto importante da vedere anche questo, la sterlina vedete che è sempre tra la media 50 e 200, siamo in una fase laterale, lo vedete anche voi stessi, non ci sono le condizioni di entrata. Poi dopo andiamo a vedere il nostro DX, l'indice del dollaro che anche lui vedete che è ritornato su questo supporto, per il momento anche qui sembra ha girato il mese, però vedete che sta salendo non a forza, anche qui per il momento aspettiamo, vedremo che come ho sempre detto 106 è uno spartiacque e bisogna vedere se romperà, per il momento però siamo in una fase di incertezza, vediamo che anche se guardiamo dal ciclo che è partito il 2 febbraio, vediamo siamo alla 22esima, per me potrebbe ritornare qui sulla media 50, per il momento non facciamo niente, non ci sono le condizioni di entrare. Il VIX, che vedete ha rotto il minimo, il minimo del 3 non è stato rotto, vedete che qui per il momento siamo ancora in una fase, siamo ancora qui in una fase laterale, vedete che siamo piatti, vedremo questo ciclo del 2 febbraio, adesso dovrà per forza chiudere, potrebbe ritornare a questo 20,14. Poi il Dow Jones, che in questo momento vedete che, fermo, ieri ha fatto una candela, come potete vedere voi stessi, una candela positiva, abbiamo detto che questo poteva essere la partenza del ciclo, per il momento si sta confermando la partenza di questo ciclo, potremmo vedere, però si è fermato sulla media 50, attenzione, qui per il momento anche qua aspetterei, perché vedete che siamo in una fase laterale, poi vedremo con questi non-fine però cosa succede. Poi il SP5 Fund, SP500, vedete che anche lui ieri ha una candela positiva, vedete che sta continuando a salire, vedete però qui siamo in una fase laterale, attenzione questa pinbarra, attenzione perché potrebbe ritornare al ribasso, probabilmente vedete fino a che non rompe quel 4191, probabilmente anche qui siamo in una chiusura del ciclo, vedete che qui siamo partiti il 19 di gennaio, 30esima barra, questo, possiamo mettere questo, non è sicuro, non è sicuro, questo potrebbe essere la partenza del ciclo, lo mettiamo così come punto di riferimento, però non è confermato, vedremo se questo minimo qua sulla media 200 è stato il minimo della ripartenza del nostro ciclo, 1, 2, 3 del G4, per momento vedremo cosa succederà, DAX, il DAX, al momento il DAX si trova, vedete ha rifatto un altro massimo, vedete è tornato al rialzo, vedete che sta su questo 15.000 che io avevo messo qui, 15.769, anche qui però siamo in una fase laterale, il trend rimane ancora long, per momento aspettiamo di vedere che cosa succede. Allora come potete vedere il DAX sta continuando a salire, poi però al momento c'è una fase di lateralità, poi andiamo a vedere il MIB, il MIB, eccolo qua, il MIB invece, scusate che sposto questo così, il MIB invece anche lui ieri ha fatto una candela, come potete vedere qua, una doji, sta salendo, il trend è ancora in salita, come potete vedere, anche qui stiamo guardando sia chiuso quando chiuderà il ciclo, vedete che qui siamo alla 29esima, attenzione, questa qua, la candela che vi metto adesso questa, potrebbe essere la candela che ha chiuso il ciclo, attenzione perché adesso potrebbe anche arrivare, continuare a fare 28.500, per momento sul MIB questa attenzione, monitorare che questa potrebbe, non è ancora sicuro, però potrebbe essere la chiusura del ciclo. Poi il GOLD, andiamo a vedere il GOLD, in questo momento il GOLD ha fatto un'altra candela negativa, ieri vedete che non ha rotto il massimo, comunque il mese e due mesi è laterale, per il momento anche qui siamo in attesa, la media 200 sembra voltare anche lei verso Rialzo, da monitorare, questa è la partenza del tricolo, potrebbe adesso andare a prendere quel 1870. Poi andiamo a vedere il petrolio, petrolio che in questo momento, anche lui un'altra candela positiva, anche qui adesso abbiamo una notizia, che questa da qui a qui potrebbe aver chiuso il mezzo ciclo, questo è il ciclo, vediamo cosa succederà a 81 da monitorare, comunque siamo sempre in una fase di laterale. Il GAS, vediamo dov'è il GAS, il GAS in questo momento, anche lui il GAS ha fatto un'altra candela negativa, niente, non vuole salire, per il momento siamo in attesa. Poi termino con le CRIPTO, vediamo cosa succede sulle CRIPTO, allora Ethereum ha fatto ieri un'altra candela negativa, tanta incertezza, per il momento non si sta muovendo, e il Bitcoin, anche lui, un'altra candela negativa, siamo per il momento in attesa. Io vi auguro ancora una buona notte, ci sentiamo chiaramente domani, e buon trading a tutti. Ciao. Ciao.